In questo momento vengono rifatti i conti per l'ennesima volta e risultano tre piloti in prima posizione a pari punti, ovvero Tictum, Norris che erroneamente credevamo aver vinto e Van Leeuwen, quindi sono tutti e tre a 25 punti e adesso stanno facendo il conto delle vittorie ma le vittorie sono a pari punti tra Norris e Tictum, quindi credo che la discriminante a questo punto dovrebbe essere la prefinale, non ho mai visto nella mia carriera in tanti anni che lavoro nel mondo delle corse un finale di campionato così, perché tre piloti a pari punti onestamente non si erano mai visti. Andiamo avanti, intanto che si deciderà il vincitore del campionato europeo della KFJ con questa incredibile classifica con tre piloti a 25 punti, intanto che si faranno i vari conteggi penso delle prefinali e poi credo dei tempi di qualificazione, andiamo avanti con quella che è la classe regina di questo campionato europeo, ovvero la KF. anche qui la situazione di classifica è veramente incarbugliata, penso onestamente che non sia come quella della KFJ con tre piloti che hanno chiuso esattamente con lo stesso punteggio, però comunque sia, se andiamo a vedere la griglia di partenza della finale, ci rendiamo conto che tutti i pretendenti al titolo finale sono nelle prime cinque posizioni. Niklas Nielsen che è primo in questo momento in classifica partirà in quinta posizione, Verstappen che è terzo in classifica partirà in seconda posizione, Bust che è quarto in classifica partirà in pole position, un pochino più ha tardato l'altro pilota danese che in questo momento occupa la seconda posizione, Christian Sorensen. Andiamo a riepilogare quella che sarà la griglia di partenza, che vede in pole position il pilota poracco Karl Bass, seguito dalla stella olandese Max Verstappen, dal giovane francese Dorian Boccolacci e dal nostro primo portacolori che è anche quinto nella classifica generale il campano Felice Tiene. Alle sue spalle il capo classifica Niklas Nielsen, vanno poi a seguire il francese Arnaud Converse, Jordan Lennox Lam, Stupekov, Montalbano, Paolo Montalbo scusate, Romanov Norris, Lance Strolli, Ferrari del Driver Academy, Christian Sorensen che occupa in questo momento la seconda posizione in classifica e che si dovrà prodigare in un'incredibile rimonta, il nostro portacolori Marco Maestranzi, il francese Montelieu, il finlandese Cuciminini, Chang, Wing, Chur, Bei Li e via via tutti gli altri. Vediamo che le splendide pit girl stanno lasciando in questo momento la griglia di partenza tra l'applauso del pubblico presente e la tensione sta iniziando a salire e i piloti iniziano a dedicarsi agli ultimi momenti prima dell'accensione dei motori, di solito in questi momenti si ricontrollano le carburazioni, si fa un po' di stretching, si raccoglie e si cerca di concentrare prima di quella che sarà la battaglia decisiva per l'assegnazione del titolo continentale. Nella KFJ l'hanno fatta da padrone i piloti della Union Jack, addirittura vi ripeto due piloti a pari punti i primi in classifica, in questa finale invece la stanno facendo da padrone in campionato due piloti danesi, Nielsen e Sorensen, anche se ripetiamo per Christian Sorensen la situazione è leggermente diversa perché si dovrà prodigare da una rimonta partendo nel centro del gruppo e dovrà raggiungere e poi superare i primi cinque che sono tutti in lotta per il titolo. Un applauso va a Carlos Bas che in pre-finale ha fatto uno splendido sorpasso di due piloti nell'ultima curva guadagnandosi così la possibilità di partire al palo in quella che è la gara decisiva per l'assegnazione del titolo. È già pronta quindi la griglia in questo momento è proprio Max Verstappen che viene inquadrato nel numero cinque mentre abbiamo già fatto la presentazione di quella che è la griglia. Sarà certamente una finale al Cardiopalma anche questa prova da Ortona, il secondo round ricordiamolo ancora nel campionato europeo mentre avviano i motori in questo momento e devo dire una prima fila davvero interessante con Carol Batz e Max Verstappen quindi una seconda fila con Dorian Boccolacci e Felice Tiene. Due alfieri CRG nelle prime due file, abbiamo poi un ufficiale Tony Kart proprio con Carol Batz nel team ufficiale dell'azienda di Prevalle e quindi ci sarà davvero un derby almeno per queste primissime file interrotta proprio da Dorian Boccolacci il casco dorato del pilota francese che è lì nelle prime posizioni. Carol Batz ancora una volta è andato a scegliere la postazione della pole position a sinistra e non a destra, infatti lo vediamo invertito rispetto a quello che dovrebbe essere l'ordine naturale della griglia di partenza. Una terza fila invece che vede Armand Conver, protagonista anche di grandissime incontri in questi giorni. Attenzione che si sta formando ancora il warm-up lap. per la prima ruota abbiamo Carol Batz che prende la posizione di pole position e ha scelto la lefta e Max Verstappen ha fatto la righte per la starte. E ora è pronto per la starte per questa CIKFA europea. la seconda round di Ortona, dal circuito internazionale di Abruzzo e è pronto per starte. E in parta, perfetto, Carol Batz e Max Verstappen è seconda e tiene in terza posizione. Guarda Boccolacci fortemente a questo momento e è fuori, driver completamente fuori. In centro del gruppo, un grande disastro. esce un protagonista e rientra in questo momento ma le prime posizioni, lì davanti è già Max Verstappen che ha ripreso la testa su Carol Batz quindi la terza posizione per l'altro pilota CRG e per Felice Tiene che è lì terzo. Attenzione, non sembra poter durare. Boccolacci, Dorian Boccolacci in quarta posizione al momento il pilota di Energy. Vediamo se Tiene va ad attaccare Batz mentre Max Verstappen è già scappato in pieno rettilineo pronto alla sinistra che lo metterà alla fine del primo giro. 19 giri per KF. Passa proprio in questo momento Verstappen mentre vedo una delle protagoniste assolute della KF Junior. Max Verstappen quindi leading the race and in this moment is ready with Carol Batz in second position con noi adesso in questo momento in cabina di commento ci raggiunge anche per lo streaming. CIK FIA Just one word from Sophie Fleursch one of the KF Junior participants. Sophie, all okay, what do you think about this KF final? Just one word, you are a preferred driver here. I think it's very important and I hope that some good drivers will win. Ah, okay, quindi spero davvero che ci possa essere una bella gara e tanti buoni piloti. Mentre passa per il secondo giro ancora Verstappen, Batz tiene Stupenkov e Lennox che passano, attenzione, il colpo di scena è Dorian Boccolacci che ancora in questo passaggio come avete potuto vedere purtroppo ha perso delle posizioni e proprio Lance Stroll invece che si porta in settima. dunque abbiamo anche questa situazione in KF per quanto riguarda questo campionato europeo al secondo round Stranava che perde le posizioni su Nielsen Dimititi. No, volevo sottolineare come proprio nel primo giro nei contatti dei primi giri ne ha fatto le spese il capo classifica Niklas Nielsen che è uscito e quindi ha pregiudicato in maniera abbastanza importante quella che è la sua possibilità di vittoria finale di questo campionato purtroppo lo vediamo transitare in questo momento addirittura in ultima posizione quindi ha tutto vantaggio di Max Verstappen che conducendo in questo momento la gara andrebbe a vincere il campionato. Eh sì, e questo infatti è la cosa interessante mentre lì davanti il gruppo di cinque piloti rimane comunque sgranato in questa fase quindi attenzione perché tutto da seguire questa KF sono ben 19 tra l'altro i giri presenti mentre naturalmente vediamo nel monitor quello che è il scroll delle classifiche ed è il distacco Max Verstappen Carol Batz quello che ci interessa è che lo streaming ci propone per voi amici a casa che state seguendo questo europeo di karting Carol Batz molto vicino davvero molto vicino in questa fase a Max Verstappen occhio alla Librea Verde di Carol Batz Max Verstappen Librea Nera CRG sono in alto di fronte alla postazione della tribuna ma per voi nei teleschermi che vedete perfettamente quello che si svolge vedete quanto avvicinato si è Carol Batz a Max Verstappen il numero 5 quindi a stretto contatto con il numero 4 il pilota polacco seconda posizione ancora non per molto credo e attenzione Max Verstappen Carol Batz inizia a fare le prime mosse mamma mia siamo nella parte centrale del circuito internazionale d'Abruzzo Carol Batz alla caccia di Max Verstappen sta largo trova già a effettuare una mossa che già in una prefinale precedente aveva fatto ancora incollato di pochissimi centimetri si affaccia a rettino principale Max Verstappen ancora davanti dietro tiene Lennox in terza e quarta ma quello che ci interessa è la lotta per la vittoria in questo momento Librea nero e arancione fluorescente per la finale di CRG numero 5 dietro Librea bianco-verde caratterizzata che caratterizza i colori di Tony Kart Carol Bazzi il pilota polacco nello scarico letteralmente di Max Verstappen occhio che siamo solo al quinto passaggio si stiamo avvicinando siamo circa a metà giro prossimi all'inizio del sesto rimane comunque staccato in questa fase mentre vedo che Dorian Boccolacci va a perdere ulteriore distacco non tanto in quest'ultimo passaggio ma nel passaggio precedente ma invece Maestranzi che è il settimo quindi di davanti ma ritorniamo sulla lotta della prima posizione attenzione Verstappen controlla su Carol Bazzi non è ancora guerra Titi è un momento particolare è un momento topico perché la prima posizione in questo momento assegna il titolo se Carol Bazzi dovesse superare Max Verstappen diventerebbe lui il campione europeo vediamo che il pilota polacco è in scia da ormai due o tre giri al fiere della CRG e in questa battaglia in questo momento si decide il campionato un applauso in questo momento anche a Marco Maestranzi che è il primo dei nostri portacolori dopo Felice Tiene che sta sornione aspettando la lotta tra Verstappen e Bas perché se ci dovesse essere un errore lui è pronto a approfittarne anche lui quinto in classifica potrebbe basare al comando ecco ancora il duello che vi annunciavamo con Max Verstappen che continua a mantenere un passo gara inquietante ma siamo attenzione al settimo passaggio di 19 credo che Max stia iniziando a far lavorare il cervello sta mantenendo una prima posizione con grande freddezza e Carol Bas però attenzione sappiamo essere un pilota decisamente competitivo tutta da seguire questa fase perché il gruppo dei primi è davvero compatto non molla neanche tiene il trenino dei primi rimane attaccato al duo di testa forse leggermente più vicino di quanto si attiene a Bas è proprio Lenox Lamb a lui in quarta posizione i primi quattro comunque sono davvero molto vicini 19 giri previsti mentre inizierà l'ottavo passaggio nel momento in cui li vedremo sul traguardo mamma mia mamma mia che emozioni oggi da Ortona per voi amici dello streaming piuttosto che ci seguite dal sito ufficiale di C.I.K.F.I.A ma adesso attenzione da sopra rimangono tali le posizioni e confermo che Lenox Lamb si sta avvicinando a Tiene in questo momento all'alfiere a Felice Tiene all'alfiere di CRG che deve difendere le spalle di Karol Batz ma non tanto di Karol Batz quanto di Max Verstappen non credo che comunque stiamo parlando di difese in questo caso CRG ha due alfieri lì nelle prime quattro posizioni ma non esistono certo strategie in merito anzi mi sembra che Karol Batz stia marcando letteralmente Max Verstappen e negli ultimi giri Karol Mio Titi si vedranno davvero degli spettacoli incredibili di battaglie credo hai detto bene Roberto Karol Batz è stritolato nella morsa di tre alfieri della CRG tutti vicinissimi basti pensare che in questo momento i tempi che hanno fatto segnare sono 56 969 57 002 57 030 57 071 quindi neanche un decimo di distacco tra i primi quattro si sono pochi millesimi davvero ormai tra i primi piloti come passo gara ma del resto qua siamo in KF e l'emozione e soprattutto la competitività dei piloti è tale e tanta che difficilmente si riescono ad ottenere sorprese particolari se non credo tra qualche giro ora siamo nel corso del nono passaggio inizierà il decimo appena i piloti finiranno il rettilineo che stanno imboccando dopo il dottor Rantone dalle immagini dello streaming lo vedete percorrere da Max Verstappen che comanda le operazioni questa è la volta per la seconda posizione forse la più serrata proprio di Lenox Slam su tiene occhio a Lenox Slam e tiene Lenox Slam su tiene sono davvero vicinissimi non c'è l'attacco però anche alla quadra in fondo nel lato più lontano del circuito internazionale d'Abruzzo adesso sono veramente francobollati pochi centimetri in distacco mentre Dorian Boccolacci fa segnare il giro veloce in 56 833 quindi davvero un'ottima prestazione per un pilota che attendavamo però nelle primissime posizioni e che invece adesso sta navigando nella settima non che sia decisamente lontano ma direi fuori dai giochi di questo treno che vediamo lì davanti attenzione ancora al gruppo di 5 con che non però d'accenno a cambiare le posizioni Verstappen Bass tiene Lenox e Moinou vanno di fatto ad iniziare l'undicesimo passaggio una lotta di nervi Francesco Candido qui con noi in commento anche per lo streaming C.I.K. F.I.I. cosa puoi pensare guarda cosa pensi soprattutto vista la tempera cultura qui a D'Ortona per questi ultimi 8 giri io non vorrei essere sotto il casco di Sorensen o sotto quello di Nielsen che purtroppo hanno avuto delle vicissitudini non esattamente favorevoli alla loro classifica di campionato mentre invece deve fare molto caldo molto fresco dipende dai punti di vista sotto il casco di Max Verstappen che con questo successo andrebbe ad aggiungere andrebbe a incrementare un palmarès che quest'anno comprende la vittoria nella WSK Master Series WSK Euro Series soprattutto nell'europeo KZ cioè è un asso pigliatutto questo Max ed è veramente un grande pilota un grande ragazzo Ti ringrazio naturalmente Francesco Cagnolo ti devo ringraziare per WSK Promotion presente all'evento per quanto riguarda la promozione proprio di questo evento CIK FIA con la presenza di un staff ben nutrito nel corso di questo KF Final il campionato europeo 2013 dove vediamo ancora Max Verstappen lì davanti a Bazz e a Tiene e a Monod che rimangono di fatto negli stessi distacchi non stanno rompendo gli indugi di te eh Monod in questo momento ha rotto gli indugi per quanto riguarda la terza posizione perché ha passato prima Lennostram e poi se li ce tiene e guarda proprio l'highlight esatto dello splendido sorpasso in fondo a Rettiligno attiene quindi diminuendo le possibilità di vittoria alla finale del pilota italiano ahimè per il nostro portacolore vabbè niente di male comunque attenzione perché stiamo parlando di campionato europeo per cui è decisamente normale che ci possano essere strategie mentre è iniziato ormai il tredicesimo passaggio di 19 per quanto ci concerne e in inglese un po' stiamo guardando una fantastica final in Ortona per la 2013 CIK-FIA europea championship with this european challenge championship in Ortona the second round of the championship and is leading the race Max Verstappen Carol Batz is second at the moment and we see the overtake of TNA now in this moment and Lennox Slam there is a wonderful battle for the first five position in this moment TT volevo sottolineare la splendida prestazione del pilota francese Moenot che partiva dalla quindicesima posizione al momento è terzo mentre davanti a lui continua la lotta di nervi tra Verstappen e Bass vi ricordo il distacco minimo tra i due corridori basta un piccolissimo errore per pergiudicare tutto Moenot si sta avvicinando addirittura ai primi due con una serie di giri veloci consecutivi eh sì direi proprio di sì e adesso a questo punto Moenot sta cercando penso il colpo grosso il colpo goppo diciamo mentre inizia il quindicesimo passaggio 4 laps in questo momento che è andata è andata è andata è andata è andata è arrivato, è un'alpha seconda, Molinò a Batz e la posizione resta la stessa per il primo, per il primo, Max Verstappen che domina questa finale finale in Ortona per la seconda round dell'europeano. Sono esattamente due decimi, in effetti quello che li separa, mentre invece Molinò è a mezzo secondo da Max Verstappen, scusate da Batz, è a sette decimi dalla leader di gara, quindi Lennox Lamb. Attenzione a Batz, attenzione a Batz che si sta preparando all'attacco, ha fatto segnare un secondo intertempo record e in questo momento è a meno di un decimo da Verstappen. E qui è tutto da seguire a questo punto perché l'alpiero di Tonicart sembra voler rompere gli indugi su Max Verstappen, attenzione perché il tornantino è davvero vicino, ora è ritornato a dare pressione in maniera decisa, mancano tre giri al termine, tre giri per questa KF Final of European Championship in International Circuit of Abruzzo. Quindi siamo pronti per andare per l'europeano, e ora è arrivato il numero 5 del dirigente CRG, Max Verstappen, che è la leada da l'inizio, e ora è passata di nuovo, e abbiamo trovato tre giri per andare, in questo momento con Carol Batz in seconda posizione, molto, 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 molto vicino, due giri che le lead questa giri, arrivano di Molyneux, il dirigente franzo, e ora è arrivato, ha fatto bene, e ora è entrata, Carol Batz è la parte del tir, Max Verstappen si fa la leada, quindi Tonicart è la giri per le giri, ma Max Verstappen di nuovo, e Molyneux si arriva prima, incredibile move for movement from the French driver who got the leader now in this moment in questo giro incredibile leader della gara è passato Molino il pilota francese numero 38 che beffa una bagarre tra Bats Verstappen e lo porta primo Max Verstappen che nel frattempo passa caro Bats e a sua volta incalzato caro Bats proprio da Lennox Slam che campione ragazzi che campione che è Verstappen occhio a Verstappen perché è dietro a Molino per cui non è decisamente finito nulla per questo campionato europeo eccoli arrivare e inizia l'ultimo giro per il campionato europeo last lap for the european championship here in Ortona adrenaline letter full adrenaline for the first driver look at the end of this trade e caro Bats who's leading now TNA is overtaking is overtooking but leader of the race is incredible fantastic job arrive with the end Morve who wins this race checkered flag on Ortona for the French driver incredible unbelievable race for Molino and Max Verstappen is second and Lennox Slam is arrived third and Carol Bats is out of podium in four position so Darian Boccolacci in forte qui stiamo vedendo il replay amici dello streaming di Carol Bats che passava davanti a Max Verstappen Max Verstappen che infila Carol Bats ma il francese velocissimo da dietro passa entrambi prima Carol Bats è proprio Max Verstappen e passa in prima posizione quindi davvero incredibile a te la cronaca a questo punto perché devo andare al podio delle premiazioni per la diretta dalla pista a questo punto di te l'analisi della gara e qui c'è davvero da scatenarsi gara eccezionale innanzitutto eccezionale veramente eccezionale il vincitore della gara Valentino Inol il pilota della ArtGP che partiva dalla quindicesima posizione in griglia è riuscito a vincere la gara queste sono cose incredibili e soprattutto credo che oggi l'automobilismo mondiale abbia trovato un campione perché Max Verstappen è veramente un pilota eccezionale con il sorpasso a due curve dalla fine ai danni di Carol Bats è riuscito a riprendersi quel titolo che gli era sfuggito di mano per poche centinaia di metri e a vincere anche questa competizione continentale veramente complimenti al pilota olandese figlio d'arte il padre è stato un grande campione il figlio sembra seguire molto bene le orme paterne cosa dire di Carol Bats Carol Bats a un giro dalla fine era campione europeo purtroppo per lui Verstappen ha avuto un colpo di coda da veramente campionissimo ed è anche stato aiutato da un bravissimo Jordan Lennox Lamb che ha fatto il suo lavoro di scudiero nel miglior modo possibile superando approfittando della bagarre superando anche lui Verstappen per poi chiuderlo tapparlo nell'ultimo giro e non dando più alla al fiere della tonic art al pilota polacco la possibilità di replica ai danni del talento olandese Max Verstappen quindi complimenti anche a Jordan Lennox Lamb che chiude sul podio questa gara continentale peccato per Felice Tiene è rimasto in scia ai primi due per tutta la gara a mio parere avrebbe potuto approfittare della bagarre finale tra Verstappen e Bats però a sparigliare le carte ci ha pensato il francese Montault che nessuno si aspettava risalendo dalla rete via e con una serie di giri record incredibili è andato a superare il nostro portacolori che è stato anche lui vicinissimo alla vittoria del titolo continentale passandolo a pochi giri dalla fine e relegandolo poi fino alla sesta posizione finale i due portacolori danesi ahimè hanno chiuso il loro campionato ricordo che erano primo e secondo in classifica dopo la gara dopo la prima prova spagnola eh Niklas Nilsson è stato eh protagonista di un incidente al primo giro che l'ha di fatto subito escluso dai giochi per la vittoria eh finale Christian eh Sorensen invece non c'è eh sembrato mai in grado per di lottare delle posizioni di vertice e ehm ha chiuso eh comunque all'ottavo eh posto finale gli altri italiani eh presenti eh sono stati eh Maestranzi che ha chiuso tredicesimo dopo essere stato anche eh settimo Russo che aveva fatto una bellissima eh gara di qualificazione nelle batterie vi ricordiamo che partiva addirittura eh in prima fine in prefinale la rivelazione italiana di questa gara però ahimè purtroppo ha avuto un problema nel finale e eh Kevin Lavelli che ha chiuso in diciottesima posizione mentre eh rivediamo gli highlight della gara entusiasmante anche questa finale della KF che ha incoronato e consacrato questo che noi riteniamo essere veramente un ragazzo eh di doti non comuni sia umane perché un bravissimo ragazzo sia tecniche perché veramente straordinario quando in una sola stagione vinci la USK eh Master la USK Euro e il campionato europeo quindi finora tutte le gare disputate eh sei sicuramente un campione naturalmente è coadiuvato da un mezzo eccezionale che è il mezzo della CRG infatti nella classifica finale vediamo che eh sono arrivati eh primo eh secondo terzo e sesto i tre alfieri della casa di prescia per questo è tutto eh vi ringrazio ringrazio il pubblico di Ortona che ha corso numeroso in questa eh splendida cornice ringrazio la l'organizzazione la CIC FIA e appuntamento a questo punto al campionato del mondo di interno alla regione un' Grazie. 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 Grazie.